Adesso, cari telespettatori, faremo un gioco molto divertente. Come si dice oggi, faremo un quiz. No, 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 anzi, un telequiz. Voi non dovrete indovinare cosa fa questo distinto signore. No, sarebbe troppo facile. Questo distinto signore gioca a tennis. E nemmeno dovrete indovinare cosa fa questo distinto signore. E' chiaro che questo distinto signore si tuffa nell'acqua. Voi invece dovete indovinare cosa fa questo signore. E' semplice, investo con fiego.